Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo con la cronaca di sei persone leggermente intossicate. Il bilancio di un incendio doloso che la notte scorsa intorno alle 3 ha interessato il vano ascensore di uno stabile in via Riosparto a Pescara nel quartiere di San Donato. Una volta scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del vicino comando di Viale Pindaro che unitamente agli agenti della Polizia di Stato hanno prontamente provveduto a domare il rogo e a far uscire delle persone dalle case. In particolare alcuni anziani con problemi di deambulazione. Anche 4 agenti sono stati medicati sul posto per una leggera intossicazione mentre un vigile del fuoco ha riportato un trauma ad un ginocchio. Il personale della misericordia ha poi allestito un tendone di primo soccorso. Secondo le prime indagini l'incendio sarebbe di origine dolosa. Due settimane fa in via Lago di Capestrano il blackout della cabina elettrica aveva provocato sempre a Pescara un incendio in una palazzina dove rimasero leggermente intossicati alcuni inquilini. Due sospette overdose immortali nel giro di pochi giorni a Via Tavo nel quartiere di Rancitelli sempre a Pescara sono preoccupati i residenti. L'assessore alle politiche sociali Antonella Allegrino illustra le iniziative che il Comune sta portando avanti. Paolo Renzetti. Occorre un impegno di tutta l'amministrazione comunale. Non è sufficiente un solo assessorato. E di fatto questo impegno c'è ed è particolarmente importante. perché sulle periferie si stanno effettuando degli investimenti che saranno strettamente legati a dei finanziamenti di carattere governativo che caleranno 18 milioni di euro su tutte le periferie di Pescara. Quindi anche su Rancitelli. E sono soldi che riguardano sia progetti di ristrutturazioni e sia progetti di carattere sociale. Certamente questo sarà un percorso lungo, un percorso che l'amministrazione ha già avviato e mentre le politiche sociali tendono prettamente ad affrontare le situazioni e quindi a stare a fianco ai singoli nuclei familiari e attraverso i servizi sociali ci sono numerosi nuclei familiari che sono seguiti proprio dai servizi sociali. L'altro tema è quello anche delle case popolari e che quindi è della concentrazione di una serie di abitazioni di carattere popolare all'interno delle periferie. Su tutto questo si sta lavorando per ottenere risultati migliori e perché le periferie diventino parte centrale della città. I residenti sono però preoccupati per tutto quello che accade. Si parla anche ovviamente di problematiche di ordine pubblico. Residenti che chiedono però una maggiore presenza delle istituzioni. Per quanto riguarda il presidio del territorio certamente queste sono azioni che debbono essere portate avanti e dalle diverse istituzioni e dai diversi soggetti quindi sia in termini di ordine pubblico quindi di questura, di prefettura, di amministrazione comunale, di polizia quindi municipale e di tutte le realtà che operano a livello di ordine pubblico. Nel frattempo stiamo creando proprio una rete di associazioni in ognuna delle periferie quindi anche nell'area di Rancitelli per fare in modo che l'intervento nasca dal basso che siano gli stessi cittadini supportati dalla pubblica amministrazione in particolare dall'ente comune ad affrontare questa situazione e che certamente nel tempo, perché sono azioni che non hanno una soluzione immediata, nel tempo a modificare anche l'aspetto culturale della vissuto della città. Individuati e denunciati dalla Digos di Pescara, i due giovani ritenuti responsabili dell'aggressione a sfondo neofascista avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 maggio davanti a un circolo arci di Pescara Vecchia. Si tratta di un 24enne ed un 25enne che vivono rispettivamente nel capoluogo adriatico e a Silvi. I due, che al momento sono indagati per lesioni, secondo gli accertamenti, appartengono all'area di estrema destra. A loro gli uomini della Digos di Pescara, diretti da Leila Di Giulio, sono arrivati dopo le indagini del caso. Quanto accaduto è stato ricostruito, non solo grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, ma anche attraverso l'ascolto delle due vittime e di alcuni testimoni. Stamani, su delega del procuratore aggiunto Gennaro Varone, la Digos ha eseguito una perquisizione domiciliare in casa dei due giovani, a Pescara e a Silvi. I due, uno studente e un lavoratore, nella notte tra il 20 e il 21 maggio, secondo la ricostruzione, erano entrati nel circolo arci, definendosi razzisti e fascisti. Invitati ad uscire all'esterno del locale avrebbero aggredito due persone, entrambe finite in ospedale con una prognosi di 20 giorni. Sull'episodio proseguono gli accertamenti ad opera della Digos. E ora cambiamo decisamente pagina. L'ex ministro alle infrastrutture, Matteoli, è stato all'Aquila per sostenere la candidatura di Biondi. Il centrodestra ha detto sarà vincente perché unito. Daniela Rosone. Il centrodestra all'Aquila è vincente, come tutte le volte che si candida unito. Parole dell'ex ministro per le infrastrutture, Altaro Matteoli, all'Aquila per sostenere la candidatura di Pierluigi Biondi, che dopo tanto peregrinare ha ricevuto anche l'appoggio da Forza Italia. Un nome è quello di Biondi, condiviso e scelto da Roma, che è stata, ha detto Matteoli, sempre in contatto però con il coordinatore Nazario Pagano. L'unità c'è sempre stata, ha sottolineato, non è stata affatto tardiva. Semmai tardiva è stata la scelta del nome. Matteoli, sul risultato aquilano, si mostra molto fiducioso. Chi ci ha governato prima di noi, ha detto, non ha lasciato una situazione molto brillante. Rivendichiamo il fatto di essere arrivati qui, a poche ore dal terremoto, aver operato immediatamente. Si spera che gli elettori, ha detto dell'Aquila, ci riconoscano questo. Sui sondaggi, che darebbero Forza Italia intorno al 20% in città, ha detto, se lavoriamo così, come nelle ultime settimane, è possibile raggiungere quelle cifre all'auspicio. A livello nazionale, invece, ha detto, l'alleanza con il Partito Democratico non è ventilata, ma mi spaventa. Non sono certamente d'accordo, ha detto Matteoli ancora. Una cosa è un'alleanza tecnica per fare una legge elettorale. C'è sempre stata, anche nella Prima Repubblica, ha portato questo esempio, c'erano delle cose che si facevano insieme, tra Partito Comunista e Movimento Sociale Italiano. Ma questo non c'entra nulla con un accordo politico. Il coordinatore regionale degli Azzurri, Razzario Pagano, ha ricordato che il grande attaccamento a questa terra e la capacità di raggiungimento dei risultati dell'ex ministro hanno fatto raggiungere risultati importanti all'Aquila. Ricordo, nelle ore immediatamente successive al terremoto, mentre all'Aquila attendevamo l'arrivo dell'allora premier Silvio Berlusconi per una prima riunione che Matteoli era già presente, aggiunge. Poi è stata la volta di Pierluigi Biondi. Matteoli, devo ringraziarlo tre volte, perché nel 2014, quando a causa della disattenzione del governo Renzi, ci fu il blocco dei fondi per la ricostruzione e io feci la clamorosa protesta dello sciopero della fame, mi mandò un messaggio di solidarietà. E poi perché Dabide, tesitore della tela, ha portato il centrodestra a essere unito a queste elezioni. Infine, dal cittadino elencato Biondi, perché assieme a tutta la squadra di governo che nel 2009 accompagnava Berlusconi, fu tra coloro che maggiormente mise mano al portafogli. E questa è storia vera. L'assessore regionale alla caccia e alla pesca, Dino Pepe, ha illustrato l'avviso pubblico del FEAMP per l'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi nell'ambito della pesca e dei porti, per migliorare la tracciabilità dei prodotti ittici, per la sicurezza dei pescatori e le condizioni di lavoro. A disposizione 1,8 milioni di euro. In arrivo fondi importanti per la marineria abruzzese. Si parla di porti, si parla di pesca, ma non solo. Il Fondo Europeo per la Pesca ha destinato all'Abruzzo per il periodo 14-20 18 milioni di euro. 4 milioni di euro in più rispetto alla programmazione precedente 7-13. Abbiamo già pubblicato tre bandi. Il primo, relativo ai gruppi di azione costiera, abbiamo messo a disposizione 3 milioni di euro. Poi abbiamo avuto il bando sulla trasformazione del pescato e adesso è in corso la pubblicazione del bando relativo ai quattro porti più importanti d'Abruzzo. 1 milione e 400 mila euro, integrabili con altre 400 mila euro. Quindi 1 milione e 8 a disposizione dei quattro porti abruzzesi per migliorare le infrastrutture, i servizi, l'illuminazione, il miglioramento dei servizi sia per quanto riguarda le imprese di pesca sia per quanto riguarda i cittadini che vivono nelle nostre città di mare. Si parla anche di tracciabilità del pescato? Sì, ci sono risorse anche per quanto riguarda la tracciabilità così come risorse per quanto riguarda lo sviluppo della competitività e l'ammodernamento delle nostre imprese. E poi bandiremo anche altri avvisi pubblici riguardanti l'acquacultura, un settore molto importante che va sostenuto e sviluppato nella nostra regione. Nasce il nuovo battaglione Orta nel nono reggimento alpini voluto dal ministro Pinotti per la gestione delle emergenze e delle calamità. Avrà all'inizio circa 300 militari impiegati. Una nuova unità operativa dell'esercito nel nono reggimento alpini dell'Aquila che sarà dedito alla gestione delle calamità e delle emergenze. In un momento di ridimensionamento dei costi il ministro Roberta Pinotti punta sulla specializzazione dell'esercito ed è stata lei stessa a scegliere l'Aquila per la realizzazione di questo nuovo battaglione, il battaglione Orta, che sarà comandato dal tenente colonnello Fulvio Menegazzo. Per la prima volta con l'istituzione di questo battaglione invertiamo una tendenza. Lo facciamo perché serve per le nostre missioni principali, quindi per la difesa della patria. Avere delle capacità del genio alpino ci permette di proiettarci nei teatri stranieri anche con più facilità, ma ci serve anche perché l'utilizzo duale in concorso con la protezione civile è una necessità sulla quale dobbiamo essere sempre pronti. I numeri sono 260, credo che alcune professionalità siano presenti e se sono necessarie delle altre verranno incrementate. Soprattutto verrà incrementato notevolmente anche il parco mezzi. All'Aquila, ha detto il ministro Pinotti, incrementiamo il numero dei militari. Sono felice di aver dato oggi questo annuncio. Alla luce degli ultimi eventi, ha detto, è bene avere un nucleo specializzato. Per quanto riguarda il personale, saranno formati alpini del nono oppure verrà anche personale da fuori? Lo Stato Maggiore dell'Esercito sta selezionando il personale sulla base dell'expertise, quindi delle capacità possedute che dovranno essere specifiche perché verranno impiegati in questo battaglione dei mezzi tipicamente del genio, quindi mezzi specialistici e quindi è necessario selezionare il personale con capacità ma soprattutto con esperienza perché le grandi emergenze non sono purtroppo come vediamo solo all'estero ma anche in Italia, quindi in certe situazioni di emergenza ci vuole tranquillità e capacità di operare sotto pressione. Alla cerimonia sono intervenuti anche i capi di Stato Maggiore di Difesa dell'Esercito, i generali Graziano ed Enrico, oltre al sindaco dell'Aquila, il vicepresidente dell'Aggiunta regionale, Giovanni Lolli e a Monsignor Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila. Grazie alla generosità del colosso svedese del mobile Ikea a Crognaleto, nel Terramano, è stata inaugurata una nuova struttura antisismica destinata ad accogliere gli studenti e uno dei primi tasselli della ricostruzione post terremoto. Per noi comincia un cammino nuovo, è una scuola sicura, una scuola bellissima, accogliente, avremo qui i bambini dalla scuola dell'infanzia alla scuola media, quindi tutta la comunità scolastica della nostra montagna. Una scommessa vinta grazie alla sinergia che si è creata sul territorio, in particolar modo con le famiglie, con i genitori, con i bambini, che hanno atteso questo momento dall'allora 18 di gennaio, cioè il momento della tempesta perfetta. Oggi è la dimostrazione che la filiera istituzionale ha funzionato. Il governo ha dato risposta a un grande partner della parte privata come Ikea, che ha voluto investire su questo territorio per ricostruire un aspetto, un assetto, un settore particolare come la scuola. Sicuramente è una grande festa per tutta Crognaleto, Nerito di Crognaleto e tutta la comunità credo che gioisca per questo nuovo inizio, che è frutto di un lavoro di squadra tra ovviamente il comune, il sindaco, il governo, tutte le amministrazioni locali e Ikea che con i suoi lavoratori e le sue lavoratrici ha voluto comunque fare questo dono alla comunità di Crognaleto. I ragazzi che frequenteranno questa scuola sono sicuramente le perle perché sono il tesoro più bello di questa comunità, di questo territorio, il nostro futuro e anche perché pur essendo molto piccole hanno dovuto affrontare anche dei mesi difficili, faticosi. Sicuramente abbiamo scelto insieme di ripartire dalle case e dalla scuola perché sono le case della comunità, perché è il modo anche per rimanere legati a un territorio. Quando c'è la scuola le famiglie ovviamente restano sul territorio. Credo che sia importante non soltanto l'impegno per la ricostruzione, il governo ha messo a disposizione molte risorse economiche e soprattutto nuove regole per semplificare le procedure di ricostruzione. Stiamo facendo un lavoro con tutta la filiera delle istituzioni fin dal primo giorno. È importante ricordare però che questi territori sono in grado di accogliere anche i visitatori durante l'estate, è bene venire in Abruzzo, è bene venire anche nelle regioni che sono state colpite purtroppo dal terremoto perché sono luoghi splendidi in grado di accogliere italiani e non italiani nelle prossime settimane ed è un modo anche per dimostrare la vicinanza a queste popolazioni. Si terrà a pescare dal 9 all'11 giugno la rassegna di satira web Satiricon che vedrà in mostra i più grandi esperti del settore. A Pescara non poteva mancare un festival di satira nella città di Flaiano. La satira in Italia che prima molto attiva, molto accesa, che i giornali come Cuore, i parmi televisivi come l'Ottavo Nano eccetera sia un po' affievolita, ma intanto è entrata fortissimo nel web. La satira web sta sconfiando con dei grandissimi nomi, coinvolge molto e dovremmo quindi fare dall'anno scorso un appuntamento nazionale con il meglio della satira che abbiamo in questo paese, con il meglio della satira web e con tantissimi ospiti. L'anno scorso tentammo questo esperimento e andò benissimo con una enorme partecipazione. Quest'anno lo rifacciamo implementato, durerà un giorno in più e si farà il museo Vittorio Colonna di Pescara, un luogo bellissimo che sarà acceso da intelligenza, idea, risate e satira per tre giorni insieme. Questa manifestazione nei tre giorni vedrà susseguirsi workshop, battle di satira improvvisata, le finali della musica del merda World Cup presso uno stabilimento balneare, ma soprattutto vedrà oltre 30 eventi, tra cui l'evento di punta è sicuramente lo stand up on the beach, quindi open mic sulla spiaggia con nomi quali Saverio Raimondo e buona parte dello staff di Comedy Central Television. Oltre a questo, dicevo, oltre 30 pagine che vanno da fotografie segnanti alle più belle frasi di Oscio, a Carlo Maria Rogito, a prodotti a chilometro zero del territorio, della satira del territorio, dico un nome su tutti, Fabio Celenza, diventato incredibilmente famoso con i suoi doppiaggi su YouTube. Il club bianco-rosso di Teramo ha donato al sindaco Brucchi due defibrillatori da posizionare, uno a Piazza Marteri, l'altro a Piazza Progresso di San Nicolò. Un gesto d'amore verso la propria città interamente finanziato con il tesseramento di tifosi terramani. Il club bianco-rosso di Teramo regala alla propria città due defibrillatori a colonna da posizionare in due spazi pubblici, Piazza Marteri e Piazza Progresso a San Nicolò. Un progetto sociale da 4.000 euro interamente finanziato con il tesseramento dei sostenitori del Teramo Calcio, un gesto d'amore dei tifosi verso i terramani. È un'iniziativa del club bianco-rosso, fa parte dei progetti legati al sociale ed è denominata Cuore Bianco-Rosso e prevede la donazione di due stazioni di defibrillazione alla città di Teramo. Dove saranno ubicate? Saranno ubicate una in Piazza Marteri, nella centrale Piazza Marteri, e l'altra a Piazza Progresso a San Nicolò a Tordino. Abbiamo cercato di coprire un po' tutto il territorio, perché anche come club abbracciamo anche la tifoseria, non solo di Teramo-Teramo, ma anche delle frazioni. Ma perché proprio due defibrillatori? Diciamo che è stata un'idea nata durante i consigli direttivi, volevamo fare qualcosa per la città, perché la tifoseria è vero che fa riferimento alla squadra di calcio, però di fatto l'amore per la squadra di calcio è un amore anche per la città di Teramo. E abbiamo visto insomma che a Teramo mancava una stazione, delle stazioni di defibrillazione a disposizione 24 ore su 24. Il club bianco-rosso di Teramo non si è limitato al dono dei due defibrillatori, ma ha già formato 40 persone all'uso di questi dispositivi in collaborazione con la scuola di formazione del 118 di Teramo. Alla consegna dei macchinari in municipio ha partecipato anche il sindaco Maurizio Brucchi, che ha scherzato ipotizzando la necessità di dotare la sala ipogea di almeno 4 defibrillatori per il prossimo cruciale consiglio comunale del 6 giugno. Grande successo per il progetto Erasmus della scuola Tinozzi di Pescara, che ha coinvolto numerosi studenti con scambi culturali con ragazzi di alcuni paesi dell'Unione Europea. Siamo con il dirigente scolastico della scuola Tinozzi per parlare del grande successo ottenuto da questo progetto Erasmus Plus. Professoressa, vogliamo spiegare di cosa si è trattato? Allora, Erasmus Plus è il nuovo programma che dal 2014 ci accompagnerà fino al 2020. Noi come scuola abbiamo progettato e realizzato il progetto Flip & Movie, che si occupa di lettura e scrittura creativa. Perché? Perché noi abbiamo analizzato i dati statistici in cui i ragazzi 15 anni non hanno più quella capacità e quella competenza linguistica. Quindi, come invogliare i ragazzi alla lettura e alla scrittura? Renderlo veramente un elemento trainante per il futuro di queste giovani generazioni? Per questo il progetto, coordinato dall'Istituto Comprensivo Pescaraotto, ha coordinato varie scuole della Lettonia, della Slovacchia, della Croazia, della Spagna. E insieme abbiamo realizzato un kit di formazione che si chiama Be Happy to Read and Write e un educational game che è proprio Story Inventor. Sono stati coinvolti più di una sessantina di ragazzi, di studenti, di tutte le cinque scuole partner. Solo qui da Latinozzi sono partiti 26 ragazzi. Ma anche ha coinvolto le loro famiglie che quindi si sono appassionate a questo progetto europeo e lo stesso gli insegnanti. Apriamo la pagina dello sport. La Nazionale di ciclismo paralimpico svolgerà un ritiro agonistico a Pescara dal 5 all'11 giugno nell'ambito del progetto Solidarietà Fa Sport dell'assessorato alle politiche sociali. Domenica 11 giugno si svolgerà un evento interessante. Vediamo. La Nazionale Paralimpica di ciclismo svolgerà un ritiro a Pescara dal 5 all'11 giugno per preparare dei grandi appuntamenti che ci saranno in questa estate. Per Paolo Addesi parliamo di questa avventura che inizierete a breve ma anche di solidarietà. Sì, un ritiro importante perché in vista della terza prova di Coppa del Mondo che si svolgerà in Olanda a fine giugno e poi ci sarà un lavoro concentrato per i mondiali in Sudafrica che ci saranno a fine agosto. Una Nazionale che torna in Abruzzo, questo è un appuntamento importante perché rientra in un progetto che è nato con il comune di Pescara, il progetto Solidarietà Fa Sport dove comunque ci saranno delle giornate, saremo impegnati sia in una pedalata della solidarietà che si farà l'11 giugno a Pescara e poi il 7 ci sarà la premiazione a conclusione di questo progetto sempre qui nel Palazzo di Città con la partecipazione della Nazionale e delle altre associazioni che hanno fatto parte di questo progetto importante perché è un progetto svolto all'interno delle scuole, un messaggio portato ai ragazzi perché comunque di fronte alle difficoltà e alla disabilità non bisogna fermarsi, ci sono tanti atleti che hanno trasformato questa sfortuna in un'opportunità, quindi comunque il messaggio è questo, mai arrendersi e magari dalle cose più brutte tirar fuori il meglio di noi. Questa è una partnership che si rinnova, abbiamo già avuto due ritiri, uno a Pineto e uno a Francavilla al mare, questo è il terzo che si terrà a Pescara, quindi ciò dimostra che c'è una partecipazione del Comitato regionale all'attività di questa nazionale importante. Di questo dobbiamo ringraziare soprattutto sia il commissario tecnico Mario Valentini ma direi anche Pierpaolo Addesi, il nostro atleta di punta in questo tipo di attività che si deve fare tantissimo, oltre che come atleta agonista, ricordiamo che ha partecipato a Campionati del Mondo e Paralimpiadi, ma anche come organizzatore sia di eventi di Nazione Paralimpica ma sottolineerei che si impegna anche nell'attività giovanile. Faccia a faccia, ieri sera nel corso della trasmissione Replay, ospite di Enrico Rocchi, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, tanti gli argomenti trattati. Ascoltiamo alcuni dei passaggi salienti in questo estratto. Sul piano tecnico sicuramente non possiamo non ammettere che ci sia stato un fallimento, ci sono modi e modi per retrocedere, noi lo abbiamo fatto in maniera secondo me sbagliata perché tutti però, parlo della squadra, della società che ha fatto i suoi errori, dei tecnici e anche di una parte del pubblico perché se è vero come è vero che il Crotone ha costruito la sua salvezza nell'ultimo mese e mezzo, rimanendo uniti e rimanendo tutti quanti insieme a lottare perché quello è quello che si doveva fare. Noi purtroppo questa lotta l'abbiamo abbandonata da un po' di mesi, anche in un momento in cui c'era ancora spazio per lottare. Come nascono i problemi con gli annascoli? Una visaglia c'era stata già 5 anni fa, perché 5 anni fa, durante la prima Serie A, a gennaio alcuni soci, io non avevo le quote di maggioranza, avevano fatto già tutto per farmi fuori e questa è la realtà, salvo poi qualcuno tirarsi indietro e passami il termine e sputtanarsi tra di loro perché non si è capito di chi è la colpa. Come si può risolvere? Si può risolvere con quello che sto facendo, si può risolvere facendo in maniera tale che io venda le mie quote e quindi se le compra lui, rimane lui da solo e fa quello che vuole, se le compra un terzo magari avrà modo di dialogare con il terzo in maniera tale che se non vado d'accordo con me… Quindi c'è questa possibilità? Assolutamente sì, perché ripeto, io devo lavorare assolutamente in quella direzione, vorrei avere altri 10 amici come Moggi, non solo come amici ma anche per quello che hanno fatto per il Pescara, Chintero, La Padula, chi altro mi aveva portato… Beh adesso su due piedi… Ci manca un altro giocatore che adesso mi viene in mente, te lo dirò, sono plusvalenze che hanno permesso al Pescara di uscire dalle sabbie mobili, magari ad averne altri 10 di amici come Alessandro. Scendiamo in Lega Pro a salvezza appena raggiunta, il direttore generale del Teramo Gianluca Scacchioli racconta la sofferenza per raggiungere il traguardo al culmine di una stagione costellata da errori e volge lo sguardo ai prossimi giorni, importanti per disegnare il futuro del club bianco-rosso. Gianluca, quanta sofferenza? È stata una partita veramente rappresentata un po' tutta l'annata secondo me, quindi purtroppo devo dire, sicuramente non ben giocata, al di là delle attenuanti che ci possono essere una finale di play-out, chiamiamola così, sicuramente con tanta tensione, tanta paura, quindi sono tutte le componenti che di solito ulteriormente ti penalizzano, noi siamo stati bravi perché comunque la salvezza è meritata visto le due partite e quindi la cosa più importante che oggi deve sembrare un miracolo, o perlomeno per noi sembra, è che Teramo città abbiamo mantenuto questa categoria ed è una cosa importante vista l'annata ricca di errori, ricca di errori, ricca di situazioni che di solito le annate così ti condannano per poi ripartire dalla Serie D che è un campionato non facile da vincere assolutamente, quindi io credo che alla fine sia andato bene. Il futuro del Teramo? Oggi credo che non si debbano commettere gli errori del passato e questa annata debba servire a tutti, al di là poi del proseguio o meno nella società, a crescere perché attraverso gli errori, attraverso le annate così difficili si può crescere sotto tutti i punti di vista, quindi oggi il Teramo non credo debba programmare in questo momento, oggi deve godersi questa categoria, poi dalla prossima settimana ognuno farà le proprie considerazioni, parlo delle persone più importanti come il Presidente per cercare... questo progetto col San Nicolo di cui si è tanto parlato, cosa possiamo dire? Sì, di conseguenza una volta che ci sono le considerazioni personali del Presidente che è la prima figura della società, poi si vedrà professionalmente come sviscerare le diverse soluzioni al fine di migliorare l'assetto societario, poi qualsiasi sia la società sicuramente oggi bisogna solo pensare al mantenimento di questa categoria. Peraltro è già possibile dire che buona parte di questo gruppo sarà smantellato perché insomma le problematiche sono state tante quest'anno? Sì, le problematiche sono state tante, nel primo impatto da smantellare sarebbe tutto, perché tutti dovrebbero essere distruttivi nel calcio, ci sono le annate negative come queste e di solito le paghe a caro prezzo, noi ci siamo salvati e abbiamo mantenuto la categoria, parlare oggi dei giocatori che vanno via e che rimangono già sarebbe per me un ulteriore errore. Oggi c'è da pensare nelle prossime settimane che tipo di forza può avere questa società, chi può dare una mano, chi vuole subentrare, chi ha la possibilità di sostituire anche il Presidente Gambinelli qualora lui voglia sicuramente dare spazio a qualcuno che lo possa aiutare o qualcuno che lo possa sostituire. Sono tutte considerazioni che si faranno con Calma e poi verrà l'aspetto tecnico, sicuramente è un'annata che ha aiutato tanto un po' tutti, di questo sono sicuro. Grazie per l'attenzione e buonanotte.